Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico di formare il Governo. Il Professor Draghi si è riservato di accettare. Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione. Grazie. 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 Grazie.